Appartamento in vendita nel quartiere Parella a Torino. L'alloggio è situato al primo piano con una superficie totale di 87 metri quadri. Entrando nell'appartamento si è accolti da un ingresso living che porta alla zona giorno ad oggi adibita a sala. Completano l'immobile un'ampia cucina con balcone sul lato cortile. E infine una camera da letto matrimoniale e un bagno. Per quanto riguarda la posizione, l'appartamento si trova nel vivace quartiere di Parella, noto per la sua autenticità e la sua vita di quartiere. Contattaci per maggiori informazioni.